Giornata assolutamente molto molto importante per il gruppo Ebano, per noi tutti. Ci troviamo qui non solamente per la convention del Centro Europeo di Formazione ma anche per celebrare in qualche maniera, per dichiarare all'opinione pubblica la città di Novara, quello che è stato lo sviluppo del gruppo Ebano in questi ultimi mesi. Dal primo luglio è nata appunto CFSRL, Centro Europeo di Formazione, da uno spin-off, come sapete, di tutta l'area di formazione a distanza che era del gruppo di Agostini, Ebano ha costituito questa NUCO CFSRL appositamente per rilevare questo ramo d'azienda ed oggi Ebano si è inserita a pieno titolo possiamo dire anche a livello di leader nazionale nella formazione a distanza quindi nella realizzazione ed erogazione di corsi di formazione a distanza. Direi che è un momento particolarmente importante perché è un cambio di pelle forte, una nuova mission molto forte e molto innovativa per Ebano e mi permetto anche di dire che è molto importante per il nostro territorio perché vuol dire il mantenimento di circa 100 posti di lavoro, diretti e indiretti cosa che personalmente, per quello che è il mio punto di vista, la mia mentalità è un traguardo importante, in particolare in un momento così difficile perché il legame con il territorio è a nostro avviso fondamentale sotto tutti i punti di vista. Il CEF il primo luglio ha iniziato una nuova avventura, una nuova vita col gruppo Ebano abbiamo delle grandi prospettive perché contiamo veramente fare tanto il CEF, lo sappiamo, offre una formazione innovativa, la FAD, la formazione a distanza siamo leader sul panorama italiano con tutta la nostra paletta di corsi Ebano oggi ci offre un supporto, un ecosistema per espanderci sempre di più abbiamo una vera forza propositiva, una forza delle idee, un gruppo che ci sostiene e questo è estremamente importante oggi oggi sappiamo che l'Italia sta vivendo un momento di crisi io ritengo che noi siamo una ricetta anticrisi, lo stiamo dimostrando nei fatti lo stiamo dimostrando tutti i giorni con la nostra crescita, dando una prospettiva ai nostri allievi e questo è ancora più vero con l'ingresso del partner forte Ebano che ci sostiene Ebano, una realtà imprenditoriale sul territorio novarese un imprenditore storico della città e del territorio ha realizzato negli anni una serie di investimenti e una serie di attività che con questo anno 2013 ha concretizzato un progetto industriale per dare valore a tutte le singole società operative con questa operazione di CEF che valorizza non solo CEF come operazione singola ma dà un ampio respiro a tutte le altre attività che trovano con questa nuova realtà una serie di sinergie ed importanti sviluppi che come a me piace dire che uno più uno non fa due, non fa tre questa è vera la realtà questo è un valore che aumenta in modo esponenziale questa realtà industriale con prospettive di crescita e di poter dare soddisfazione anche tutte le persone che lavorano in questo gruppo che stiamo cercando di fare una squadra reale e importante sul territorio